eeeh c'è tutto in questo nuovo video solo che io vi faccio guardare trocchissimo qui con eeeh questo nuovo giorno e mi scuso con voi perchè non ho potuto fare video cioè mi sono realizzato ora ora ho potuto fare video no? e quindi mi scuso si eeeh perchè poi io sto aspettando i like per il video blog 5 iscritti se arrivavo a 5 like nel blog dove faremo un nuovo video di iKinator e ce ne sono ancora 4 mi piace eeeh si è davvero difficile mettere like come a me che poi non mi conosce nessuno perchè se mi conosce se mi conosce se mi conoscono tutti su youtube no? io saprei che mi metteranno sempre e non mi piace ahhh ahhh vabbè a parte le cazzate eeeh si oggi non so perchè non sono andato a scuola oh io voglio vedere i minuti bellissimi minuti perchè un minuto è sempre la cosa più bella del mondo eh si io ho due telefoni questo qua che io sto registrando e questo qua io ho due telefoni capito? eeeh tipo se ti metto il cellulare così tipo in gioco tutto 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 però devo trovare una cazzo di altra carica di un'altra batteria così io ho due telefoni con tutte eh si su Minecraft eeeh siamo a due minuti si siete due minuti ed è una cosa bellissima ahhh vabbè vabbè si mi scuso con voi perchè non ho potuto fare video e anche dei miei compagni che mi stanno dicendo che no perchè non stai facendo più video si poi non ho potuto fare video perchè io non avevo tempo al doposcuola scuola e quello e quello e un'altra cosa eeeh si può succedere eeeh cosa devo dire? eeeh si mi scuso non so perchè sto tenendo sto telecomando vabbè me la vedo io ahhh felicità mi chiedevi eeeh allora eeeh comunque mi saluto e mi scuso comunque mi saluto lasciate like iscrivetevi al canale al prossimo riuscendo a commento e al prossimo video eeeh affanculo che cazzo stavo a fare ciao eeeh mi scuso ancora un'altra volta scusa